Gentili spettatori di Rapallo 2, ho trovato questo pneumatico e mi sembra un peccato sprecarlo in questo modo quindi oggi voglio fare un po' di esperimenti Ok, il primo esperimento è di vedere se va dritto effettivamente Ok, non va proprio dritto La mia domanda è se lo posso provare in strada Ecco, adesso il train off in strada, oh porco giura Ok, vediamo come corre in strada Oh, sta andando Ah, è caduto Ok, l'ultima cosa che voglio provare con la gomma Oh, è caduto Oh, è caduto Oh, è caduto Divertente